Ciao e benvenuti nel video delle locations del film Non ci resta che piangere di Massimo Troisi e Roberto Benigni del 1984, film di cui sono letteralmente innamorata. Le riprese si sono svolte tutte in Italia, anche se l'avventura nel film comincia nelle campagne toscane per proseguire poi fino alla Spagna. Nella realtà è stato girato per la maggior parte in Lazio e Cinecittà. È orribile accettare la non esistenza di Frittole, ma purtroppo ragazzi non esiste. La scena di ricordati che devi morire è stata girata a Cinecittà. Ragazzi guardate dove siamo! Siamo al passaggio a livello. Casellante, quanti treni passano? E qui c'è la stradina che porta Frittole! No ragazzi sono emozionata! Cioè ho i brividi, ho i brividi, ho i brividi. E qui la strada, loro venivano da qui, verso in là. Comunque ragazzi qui ci mette veramente un bordello a passare il treno. Eccolo! Frittole! Frittole! Anzi stiamo cercando di andare al Borgo di Rosa, dove hanno girato la famosa scelta che è la 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 scel scena del fiorino. Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io a lui, dietro non c'è... Un fiorino! Purtroppo ci hanno dato il permesso per riprendere soltanto all'esterno. Comunque la scena del fiorino è stata girata proprio nell'arco accanto alla chiesetta che vi ho fatto vedere. Eccoci! C'è la vitamina C! Il video delle locations di Non ci resta che piangere termina fin. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video! Via ragazzi, io vado a fritto, ci si vede, no? Ciao! Ciao! Ciao!